momenti della sperrima battaglia difensiva che si combatte in Tunisia da oltre due settimane e nella quale rifugono per riconoscimento dello stesso nemico il valore, la tenacia e lo spirito di sacrificio dei soldati dell'asse. Batterie semoventi martellano le preponderanti forze avversarie che muovono all'assalto delle nostre posizioni. Anche i lanciabombe entrano in azione. Laggiù su quella collina sono annidati dei nuclei d'assalto anglo-americani. Una teleferica di fortuna per il rapido rifornimento delle voraci mitragliere in un caposalto di prima linea. Per allentare la pressione del nemico nostri reparti si lanciano al contraattacco. mitragliatrici e cannoni contro carro appoggiano l'azione. Nostri apparecchi d'assalto spezzonano le colonne nemiche. Nel contrattacco sono stati fatti dei prigionieri